carissimi pace buona giornata dio benedica tutti quanti voi questa mattina leggeremo il capitolo 42 della genesi versi da 18 fino a 38 i fratelli di giuseppe a causa della carestia arrivano in egitto giuseppe li vede li riconosce ma non viene riconosciuto dai suoi fratelli e così li sottopone a un duro interrogatorio e arriverà ad accusarli di essere delle spie e proprio per questo li rinchiuderà in prigione saranno tre i giorni della loro prigionia e alla fine di questo giorno di questi tre giorni li manda a prenderli e mettendo da parte quello che aveva subito a causa loro parla a questi fratelli con benevolenza fate questo e vivrete perché io temo dio sono queste le parole che giuseppe disse e stabilì un patto con loro uno sarebbe rimasto lì in egitto in prigione gli altri sarebbero ritornati a casa del padre e avrebbero ricondotto quel fratello più piccolo di cui avevano parlato naturalmente questo aveva un duplice scopo innanzitutto far arrivare a giacobbe e al fratello minore vale a dire beniamino dei viveri necessari perché la carestia era veramente grande e la situazione anche a casa di giacobbe era molto difficile da un punto di vista del sostentamento e secondo scopo era quello di mettere alla prova la fedeltà dei suoi fratelli e quindi testare l'avvenuto cambiamento spirituale che giacobbe che giuseppe voleva vedere in loro durante tutto l'interrogatorio giuseppe aveva usato un interprete e questo con lo scopo di far sì che i suoi fratelli non arrivassero a capire che lui era quel fratello che avevano venduta degli schiavi ismailiti e proprio la presenza di un interprete spinse questi fratelli a parlare liberamente tra di loro pensando che giuseppe non li avrebbe capiti e nel parlare realizzarono realizzarono la colpa loro infatti dissero chiaramente tutto questo ci sta accadendo perché abbiamo venduto nostro fratello e ora il suo sangue ci viene ridomandato e dio che ci sta punendo a causa dei nostri peccati ruben lo dirà in modo molto chiaro infatti egli rivolgendosi agli altri dirà non ve lo avevo detto io non commettiamo questo peccato contro il fanciullo ma voi non mi avete voluto dare ascolto e per questo ora il suo sangue ci viene ridomandato dal versetto 21 notiamo che i fratelli di giuseppe erano veramente in preda ad un'angoscia profonda e questo era un qualcosa di necessario perché portò questi giovani al pentimento ed è importante che ognuno di noi realizzi il bisogno di pentirsi dinanzi a dio e di chiedere perdono al signore alle persone alle quali abbiamo fatto magari dal male noi dimentichiamo con facilità i torti che facciamo mentre mentre manteniamo vivo il ricordo dei torti che subiamo dovremmo essere umili e umili non soltanto col signore anche con il nostro prossimo è vero ogni peccato è contro dio ma alcuni peccati sono non solo contro dio ma anche contro i nostri simili le bugie che diciamo le calugne che delle volte possiamo arrivare a spargere le reazioni esagerate i comportamenti fuori le righe fanno male al signore perché offendono la sua santità ma fanno male anche al prossimo e noi dovremmo essere umili al punto tale da chiedere perdono al fratello alla sorella all'amico al familiare che abbiamo offeso in modo da essere poi perdonati da dio a nostra volta sì cari viviamo in un tempo in cui purtroppo questa attitudine si va sempre più perdendo e si pensa che ci si può comportare liberamente come si vuole anche oltre quello che la bibbia stabilisce perché i tempi sono cambiati e quindi il modo di vivere inevitabilmente è cambiato ma se è vero che noi non siamo legati ad alcuni canoni particolari relativamente all'atteggiamento nel vestire se non quello di essere sobri e di non scadere nell'indecorosità è altrettanto vero che alcuni principi di natura morale alcune regole di natura comportamentale sono ancora valide oggi perché la legge di dio è eterna i cieli e la terra passeranno ma la parola di dio non passerà e allora distinguiamoci anche in questo nella società in cui viviamo riconosciamo i nostri errori riconosciamo i nostri sbagli chiediamoci perdono l'uno con l'altro e perdoniamoci a vicenda i fratelli di giuseppe arrivarono a realizzare una profonda angoscia nel loro cuore una grande tristezza e paolo nel parlare ai corinzi parlerà proprio di questa tristezza e dirà che c'è una tristezza che viene da dio dalla quale non c'è mai di che pentirsi perché essa produce un ravvedimento che porta alla salvezza si delle volte il signore ci da trista e questo lo fa perché vuole che noi riconosciamo il peccato commesso e ci ravvediamo da esso rimassero tre giorni quei giovani dentro la prigione fin quando giuseppe non li tirò fuori e qui mi viene in mente una simbologia anche se potrebbe sembrare un po azzardato il paragone e cioè i tre giorni tra virgolette di prigionia cui il nostro amato salvatore fu sottoposto era non in una prigione ma nel ventre della terra vale a dire dentro una tomba che non era mai stata usata e che venne impiegata per la prima volta per ospitare il suo corpo ma alla fine di quei tre giorni non ci fu nessuno che aprì la tombe di quella le porte di quella tomba e questo perché non era necessario in quanto egli con la sua potenza riuscì non solo a vincere la morte ma anche a rotolare la pietra che sigillava l'uscita da quel luogo tenebroso e grazie a dio perché per quella resurrezione noi oggi abbiamo speranza di vita eterna e sappiamo che se saremo fedeli al signore noi un giorno risorgeremo esattamente come lui ha risorto e avremo un corpo nuovo un corpo glorioso e allora coraggio cari camminiamo con fedeltà nelle vie di dio e quando è necessario andiamo al signore chiediamo perdono e se qualcuno abbiamo offeso siamo saggi chiediamo perdono anche al nostro fratello ci sarà una grande benedizione che scenderà su di noi sulla nostra vita e noi continueremo il nostro viaggio spirituale tutti allegri che la grazia del signore e la sua pace la sua guida e il suo amore sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme